La macchina regionale è attrezzata a livello di organizzazione e comunicazione efficace e velocità in caso di emergenza? Sì, ma deve migliorare e il tema della comunicazione è uno dei temi, ma anche l'ulteriore attività formativa da organizzare a favore degli operatori di protezione civile. Io mi ricordo il migliore Ciampi, quello che si occupò anche di governo, che diceva che quando si fa intervento, anche in regime di solidarietà e di volontariato, ci deve essere una infrastrutturazione formativa che prepari, che attesti anche una capacità di reazione. Ed è straordinaria questa disponibilità dell'università nello starci dietro, a supporto, anche per uno dei compiti fondamentali del potere pubblico. Il potere pubblico quando è nato è nato per fare fronte alle emergenze, alle straordinarietà. E' quella di regime di protezione civile e uno dei classici poteri riconoscibili della struttura pubblica dell'ordinamento regionale. Io ringrazio molto il Rettore e l'ordinamento universitario che si rende sempre disponibile ad affiancarci. Personalmente mi dedicherò molto affinché anche la rete del volontariato di protezione civile possa contare dentro di sé, di abilità comunicativa, di capacità destinata a se stessa per quanto riguarda la formazione. Non può accadere a caso ciò che serve per fronteggiare le emergenze. Ce lo ha insegnato chi ha impiantato a livello nazionale la protezione civile, ma me lo insegna anche per esempio via Ulpiano quando cominciò a preparare in Italia i disaster manager. Fare in modo che quando si verifica il fatto eccezionale l'ordinamento pubblico venga trovato preparato. Su questo noi ci prepariamo, ci dedichiamo facendo sì che mai più veniamo colti di sorpresa. Anche nella parte comunicativa, ma non solo nella comunicazione. Noi abbiamo visto per esempio che sul fronte comunicativo la mancanza di adeguatezza ha determinato anche l'intervento del diritto penale. Giustamente, ha ragione. Noi però dobbiamo anche elevare la capacità di reazione quando si verifica un disastro. Non solo il sistema dell'allerta che è all'altezza. Oggi noi abbiamo un sistema di organizzazione anche tecnologica che per allertare è quasi alla perfezione. Quando però si verifica il fatto drammatico, distruttivo di un evento straordinario, prima non previsto o non prevedibile, che succede? Come riusciamo a fronteggiare? Con quale organizzazione graduata? Ecco questo io lo voglio rendere anche oggetto di specifica formazione. Dove si assume la formazione su questo? O in accademia, l'università in questo caso di Teramo, ma anche potrebbe essere quella dell'Aquila, oppure nelle organizzazioni militari, dove c'è una capacità di prefigurare il rischio e di assestare la capacità di esserci in caso di pericolo. Io voglio mettere insieme per l'Abruzzo, dopo le vicende drammatiche intervenute, questo livello di coniugazione. E sono convinto che l'università ci aiuti ad allineare la volontà di chi sa fare. Grazie. 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 Grazie.